In questa stanza dell'esposizione ci sono molti quadri dedicati al bagno a fontana. In questa stanza ci sono molte peinture che sono dedicati al bagno a fontana. Il bagno a fontana a Trieste è una vecchia tradizione, un bagno a fontana dove i uomini e le donne i uomini e le donne i uomini. Questa tradizione continua anche in questo momento. Mi sono inspirato alla storia di Joyce, perché con il suo figlio allò al bagno a fontana e lui ha parlato del bagno a fontana. E io ho pensato che era interessante e ho cominciato a fare questo bagno. Où la colorza azure, con la ruia e l'air di mer, con il vento verde, e poi la ruia fa una consumazione. è tutto, è tutto, è tutto finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.